Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video Calcio Mercato, continuiamo la saga Calcio Mercato in casa Napoli La trattativa Samarzic sembra in fase avanzata, poi si indietreggia per diritti d'immagine a quanto si legge e ci si deve ancora accordare ma facciamo questo video analizzando il profilo Samarzic per quanto riguarda numeri nell'Udinese ma anche in gioventù con gli scrisciotti appunto e dati alla mano e parliamo anche di Martin Wittig, difensore cieco ovviamente dello Sparta Praga sempre con dati e statistiche alla mano, andiamo a vedere di chi si tratta perché sembra che per quanto riguarda questo difensore centrale ci possano essere buone possibilità di vederlo a Napoli ma ovviamente poi quando ci sarà l'ufficialità potremo cantare vittoria anche per quanto riguarda Samarzic, faremo una sorta di scheda tecnica di questi due calciatori perché poi a parlare di Calcio Mercato si può parlare di notizie che si rincornano però a me piace analizzare comunque i numeri di ciò che sono stati e che sono in questo momento i calciatori che il Napoli potrebbe acquistare prima di cominciare vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche per chi è nuovo e per chi non si è ancora iscritto così restate aggiornati ogni qualvolta carico un contenuto perché oggi al di là di questo video forse potrebbe uscirne un altro al massimo domani sempre per quanto riguarda il calcio mercato e l'ufficialità di Mazzocchi ma in questo video ci concentriamo appunto su Samarzic e Viti allora partiamo da Samarzic sappiamo benissimo anche se qui c'è un dato che è errato in questa schermata di appunto presa da Transfermarkt Lazar Samarzic centrocampista offensivo serbo altezza 1.84 ma tutti gli altri siti dove però altre statistiche lasciano un po' a desiderare me lo danno di 1.77 di altezza quindi fate pace col cervello noi andiamo diciamo a fiducia e gli diamo 1.80 di media tra 1.84 e 1.77 comunque non è altissimo Samarzic come calciatore posizione centrale centrocampista centrale tendente all'offensiva andiamo avanti con la posizione in campo queste sono le posizioni ovviamente di tutta la trafila che ha fatto Samarzic anche nelle giovanili si vede dalla schermata predilige la posizione centrale al centrocampo che sia un trequartista che sia sotto punta schierato pochissime volte anche da punta una sorta di falso 9 centrocampista centrale pochissime apparizioni sulla sinistra quindi rende molto centralmente trequartista dietro la punta sotto punta centrocampista centrale ma per caratteristiche non è un interditore è un calciatore dagli ottimi piedi con una buonissima visione di gioco quindi tendente all'offensiva andiamo avanti e vediamo i dati per posizione e per squadra da centrocampista centrale 64 presenze 15 gol e 7 assist da trequartista 63 presenze 49 gol 24 assist parliamo di numeri inerenti però anche alla trafila delle giovanili ma ci arriviamo due presenze come seconda punta una presenza addirittura in carriera come centrocampista di sinistra uno come punta centrale con un assist e una come mediano 80 presenze nell'utinese 9 gol e 9 assist Erta Berlino under 17, under 19 57 presenze totali con 55 gol e 23 assist che sono numeri stratosferici in base alle presenze quindi Samaric vediamo che già da piccolo tra virgolette comunque 17-18 anni ha sempre avuto questa abitudine con il gol e questa abitudine all'offensiva cosa che abbiamo visto anche a sprazzi non sempre con l'utinese 76 presenze in serie A 9 appunto 9 gol e 8 assist under 17, under 19 sono le stesse statistiche di qui sopra possiamo anche andare avanti con la prossima schermata queste sono per statistiche per competizione eccole qua 2023-2024 in serie A 17 presenze 2 gol e 1148 minuti giocati non le andiamo a reggere tutte perché le abbiamo già lette statistiche e gol però a me quello che interessava era la serie A 2023-2024 questa di quest'anno con un discreto minutaggio anche già giocato e la serie A 2022-2023 che conta 37 presenze 5 gol per appunto il centrocampista serbo acquisto che non dispiacerebbe assolutamente mi auguro che il Napoli riesca a portare a portarlo avanti e concluderlo nel minor tempo possibile perché il mercato di gennaio non è giugno in primis per le tempistiche e punto secondo perché non hai il tempo di acquistare il calciatore farlo abituare un attimo ai sistemi di gioco devi vedere comunque come si sposa con l'ambiente ci sono tanti fattori da dover considerare quindi il tempo stringe e non è dalla nostra parte l'ultima schermata e poi passiamo a Vitic nazionale serbo nazionale serbo dal 24 marzo 2023 c'è stato il debutto poi si è fatto tutta la trafila ovviamente nelle nazionali tedesche dopo aver scelto la serbia come nazionale maggiore tutta la trafila under 16 under 17 under 19 eccetera eccetera in Germania calciatore che credo sia abbastanza maturo per determinati palcoscenici sappiamo che noi abbiamo un Barcellona da dover affrontare nella doppia sfida di Champions abbiamo la Supercoppa ovviamente cose che io guardo a livello marginale sia la Supercoppa sia il Barcellona perché a me serve il mercato per raggiungere questo quarto posto in campionato che non voglio assolutamente steccare né io né tantomeno credo il presidente perché altrimenti mettiamoci l'anima in pace se non arriviamo quarti quest'anno ci sarà un ulteriore ridimensionamento di una possibile rosa perché entreranno molti soldi meno rispetto a un quarto posto quindi auguriamoci che riusciamo nell'obiettivo difensore centrale cosa che sta passando quasi in secondo piano perché si sta puntando ai centrocampisti eccetera eccetera ma ciò che serve è un difensore veloce rapido che legga l'azione che riesca a tappare i buchi quando sei alto e appunto prendi la prendi subisci ecco non prendi subisci azione in contropiede e ripartenze Martin Wittig chi è Martin Wittig? Martin Wittig è un difensore cieco dello Sparta Praga un metro e novantatré non ho comparato l'altezza però in questo caso con altri siti diamola per buono questo metro e novantatré comunque ho visto gli highlights e video tanti video di Martin Wittig che trovate ovviamente su youtube ma anche su altre piattaforme è un difensore molto pulito negli interventi buono nell'anticipo grande corsa grande gamba ha un piede destro in questo caso molto preciso e poi legge l'azione almeno per quello che ho potuto vedere legge l'azione in maniera giusta evitando diciamo di dover rincorrere in quelle situazioni dove prendi la ripartenza e ti trovi completamente scoperto anche in fase di copertura con le diagonali quindi grandissimo profilo 20 anni ovviamente ha 20 anni e può sembrare può sembrare un calciatore che è piccolo di età ma per quello che ho visto ha già abbastanza personalità per potersi mettere in gioco e potersela giocare ovviamente l'altro lato della medaglia è quello che devi comunque arrivare in una piazza dove l'ambiente adesso è un tantino quello che è ci saranno competizioni molto più blasonate di quelle che sei abituato a giocare lo Sparta Praga comunque sta giocando e si è qualificata in Europa League quindi di gettoni europei ce ne sono alcuni e può solo migliorare venendo a Napoli 5 milioni qui al costo del cartellino ma sappiamo che nel mercato di gennaio i prezzi possono lievitare si vedrà poi nel caso il Napoli affondi il colpo mi auguro che affondi il colpo perché è un difensore che a me piace nel caso si voglia virare su un profilo ventenne con una scommessa al 35% perché resta comunque una scommessa si vuole scommettere se si vuole scommettere è un profilo che a me piace altrimenti si vira su altri difensori si mette mano alla tasca posi il cash e compri chi di dovere andiamo avanti posizione preferita ovviamente centrale sia quello di sinistra e quello di destra il piede è un piede destro quindi non è detto che debba giocare per forza a destra perché essendo destro di piede puoi giocare anche a sinistra ma non escludo una difesa a tre dove si potrebbe trovare comunque bene essendo comunque un difensore giovane puoi tranquillamente adattarti a diversi a diversi sistemi di gioco perché io lo dico sempre se prendi un difensore di 25 26 27 28 30 anni che ha giocato sempre in una difesa a 4 è un tantino più difficile passare ad una difesa a 3 per un difensore navigato che per un ragazzo che poi parliamo di ragazzi di 20 anni che possono tranquillamente implementare la loro conoscenza tattica imparando poi due sistemi diversi di gioco questa è la posizione questa invece sono le presenze 2023 e 2024 statistiche che non fanno altro che in questa schermata vedete anche che TransferMact lo dà al 75% probabile diciamo papabile per la difesa del Napoli ma è un 75% che lascia il tempo che trova perché poi sappiamo che il mercato in 24 48 ore può stravolgere qualsiasi cosa comunque mi soffermo sul fatto delle presenze perché io vi ho detto che analizzando e vedendo alcuni video ho notato che è un difensore molto ordinato negli interventi e cerca sempre di essere quanto più pulito possibile sposando l'anticipo e cercando di non addentrarsi diciamo in situazioni pericolose dove poi deve entrare scomposto e becchi il cartellino tanto è vero che in 15 presenze 2023-2024 nel campionato d'appartenenza fa due gol e prende un solo cartellino rosso e zero ammunizioni che per me in 15 presenze da difensore è un dato da non sottovalutare e sta a significare che comunque sei un difensore abbastanza pulito per quanto riguarda gli interventi cosa che a me piace tantissimo nei difensori centrali non piacciono quei difensori sporchi che cominciano a mettere le mani le braccia ti spostano col corpo va bene però usare troppo le mani nel calcio di oggi che dove un minimo contatto lo paghi con la massima punizione nel caso sia appunto in area di rigore non va bene abbiamo quasi finito così non vi non vi tengo più diciamo attaccati allo schermo ma mi auguro che siete arrivati fino a qui andiamo per le presenze per competizione nella appunto l'abbiamo detto nella competizione di appartenenza il campionato la fortuna liga 15 presenze 2 gol e 1138 minuti giocati 2 presenze in Champions 5 in Europa League con una rete quindi il vizietto diciamo del gol fa anche bene ad un difensore centrale 0 alle qualificazioni a Mall Cup vediamo che nella nazionale appunto cieca e da novembre 2023 una sola presenza è stato convocato novembre 2023 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili delle nazionali dell'appunto Repubblica cieca andiamo avanti l'ultima cosa e ci siamo piede destro contratto fino a giugno 2026 con lo Sparta Praga da non confondere con lo Slavia Praga altra formazione che però non è la stessa appunto del appunto di Viti 1 metro e 93 e l'ultimo contratto firmato è stato rinnovato appunto a gennaio 2023 quindi un annetto fa quasi un anno fa ha rinnovato il contratto fino al 2026 sponsorizzato Adidas questo ci interessava nei numeri e nelle statistiche io mi auguro che il Napoli al di là di chi prende a me Martin Viti piace tantissimo come per caratteristiche diciamo come io vorrei un difensore centrale velocità rapidità anticipo completezza per quanto possa essere completo un calciatore di 20 anni perché avrà sempre da migliorare però completezza nei fondamentali lettura dell'azione attenzione massima nell'essere quanto più pulito possibile l'unica l'unico ne o l'unica domanda che mi pongo è quanto ci mettiamo a concludere le operazioni vedremo se dovessero andare in porto sia questa che quella di Samarzic che sembra in dirittura d'arrivo ma visto ciò che abbiamo vissuto con Vega quest'estate ci vado comunque cauto perché contrattare con il Napoli non è semplice così come non sono semplici le trattative di calciomercato in sé però vedremo come andrà a finire fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ragazzi ci vediamo nel prossimo video sempre forza Napoli ciao